Le recenti notizie da Piano Gentile lasciano un interrogativo importante ai tifosi dell'Inter. Federico Di Marco, reduce da un'ottima prestazione nella vittoria contro i Monza, ha accusato uno stiramento ai flessori della coscia destra e la sua presenza nella successiva partita. La partita è a rischio la preoccupazione ora ruota attorno al suo recupero, soprattutto considerando l'impegno cruciale che la squadra ha davanti in Champions League contro il Manchester City. Metti mi piace al video per altre notizie sull'Inter. Di Marco è un giocatore fondamentale nello schema tattico di Simone Inzaghi. La sua presenza sulle fasce porta non solo solidità difensiva, ma anche un importante contributo offensivo, con cross precisi e una buona lettura del gioco. Da quando si è affermato nella formazione titolare, è diventato uno dei giocatori più regolari della squadra, ricevendo costantemente elogi per le sue prestazioni. L'infortunio arriva in un momento delicato, soprattutto nel bel mezzo di una sequenza di partite decisive sia del campionato italiano che della Champions League. Dopo la bella prestazione contro il Monza, dove Di Marco è stato uno dei protagonisti, l'aspettativa era che scendesse in campo contro il Manchester City. Tuttavia, lo sforzo muscolare dei flessori della coscia destra mette in dubbio questa partecipazione. L'ufficio medico dell'Inter sta monitorando attentamente i suoi progressi e la decisione definitiva sulla sua presenza verrà presa solo dopo l'ultimo allenamento prima della trasferta di Manchester, ad Appiano Gentile. Per Simone Inzaghi questa incertezza rappresenta un dilemma tattico. Senza Di Marco, il tecnico dovrà cercare alternative per il laterale sinistro. Tra le opzioni c'è la possibilità di utilizzare giocatori come Carlos Augusto, che ha anche mostrato buone prestazioni nelle occasioni avute. Vale la pena ricordare che il calendario stagionale è piuttosto serrato e che l'Inter deve gestire bene la condizione fisica dei propri giocatori per evitare problemi più seri nel corso dell'anno. E tu, tifoso nerazzurro, cosa pensi di questa situazione? Credi che l'Inter possa sopperire all'assenza di Di Marco se non potrà giocare contro il Manchester City? Chi ritieni possa essere la scelta migliore per sostituirlo? Lascia la tua opinione nei commenti. Forza Inter sempre!